Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di rifornire un veicolo a Gattogrill. Mi trovo qui a Gattogrill al distributore di benzina. Tutto quello che dovete fare è avvicinarvi ad una qualsiasi pompa e spruzzare benzina verso il veicolo. Come vedete si sta alimentando, lo sto ricaricando di carburante. Questa sfida non può essere assolutamente fatta nella modalità rissa squadre perché i veicoli non possono essere utilizzati. Quindi dovete optare per una qualsiasi altra modalità che non sia rissa squadre.